Allora, perché abbiamo deciso come associazione di studiare un nuovo protocollo interno ed esterno alle macchine? Non perché ci siamo svegliati una mattina e non avessimo niente da fare, ma perché il settore, i gestori soprattutto, hanno ogni giorno esigenze nuove, ci chiedono a livello informatico e anche a livello di sistemi di poter avere più informazione, più dettagli, gestire meglio le macchine, gestire da remoto, eccetera, e i protocolli attuali non sono più adatti a fare questo, non ce la fanno più. Poi Mari vi racconterà la storia dei protocolli, ci renderemo conto che sono passate delle vere aree geologiche da quando sono nati in realtà. Oggi lavoriamo con il protocollo con l'EvaDTS 6.1, che è l'ultima versione, poi c'è anche la 6.2 già, ma cambia veramente poco. Il protocollo EvaDTS attuale ha tutta una serie di limiti, qui ho elencato solo i principali, perché ce ne sarebbero altri, potremmo parlare ore volendo, però abbiamo un sacco di definizioni confuse e ridondanti, cioè le stesse informazioni a seconda del sistema, a seconda della versione del sistema e a seconda della programmazione del sistema possono essere trasmesse in modo completamente diverso, con la complessità che questo comporta, l'interpretazione del dato. Non ci sono informazioni transazionali, cioè l'EvaDTS, quando è nato, così come l'Executive e l'MDB, non prevedono il concetto di transazione, è semplicemente una raccolta statistica periodica di informazioni. Per cui oggi sempre di più abbiamo sistemi, macchine collegate con telemetria, per cui se voglio sapere cosa sta facendo la macchina in questo momento, non c'è, semplicemente non c'è. Per cui questo cosa comporta? Che i fabbricanti dei sistemi, dei sistemi di telemetria, dei sistemi di pagamento e le software house si devono inventare di volta in volta dei sistemi per cercare di rispondere alle vostre necessità. Però non esiste un disegno organico di questo, per cui si sta, ognuno inventa la sua maniera, come si dice, complicando la vita di tutti, rendendo incompatibili fra i loro sistemi. Non esiste la codifica degli eventi, cioè se io voglio sapere oggi cosa succede dentro una macchina, concretamente non si può. Salvo, come dicevamo prima, invenzioni fatte, custom, da ogni fabbricante, per cercare di fornire le informazioni, costringendo spesso il gestore a soluzioni che sono quasi grottesche, pensando a dove siamo nel 2020. Cioè, montare due moden dentro una macchina, per esempio, perché dei dati me li manda la macchina, degli altri dati me li manda il sistema di pagamento. Non riesco a avere tutte e due le informazioni per cui ne monto due. Se voglio avere pagamenti vari, app, carta di credito, eccetera, metto in difficoltà i sistemi perché al giorno d'oggi andiamo a tabelle prezzo. Cioè, dentro una macchina ho delle tabelle di prezzo, non ho le informazioni della transazione. Tutto questo diventa, al giorno d'oggi, veramente limitante. Industria 4.0, abbiamo parlato anche stamattina di Industria 4.0. Il vending è stato, ha avuto la possibilità di avere tutti i benefici della 4.0 i per ammortamento. Questo implica una comunicazione bidirezionale con la macchina. Fare oggi una comunicazione bidirezionale tra il sistema gestionale e la macchina è una cosa complicatissima. Perché? Perché i protocolli attuali non sono stati pensati per avere la bidirezionalità. Provate da sede a cambiare il prezzo in automatico dentro una macchina e vending. Dovete sapere che modello c'è, che modello di macchina, come l'ho programmata, su che linea di prezzo lo devo mettere. Cioè, devo avere tutte le informazioni che variano da fabbricante a fabbricante, da fabbricante del sistema di pagamento a fabbricante, a seconda del sistema di telemetria. Cioè, il vending degli anni 2000 non può andare avanti così. Per cui, è questo che ha spinto Confida a ripensare completamente i protocolli della macchina. E l'abbiamo pensato proprio sia internamente che esternamente. Cioè, la macchina non solo deve comunicare col gestionale, ma anche internamente dobbiamo poter comunicare con tutta la macchina. non solo come un pezzo come oggi. Oggi io parlo o col sistema di pagamento, o con la macchina, ma con un sistema di pagamento, non con il sistema di pagamento in generale. Per cui, se ho carte di credito, chiave privata, moneta, magari anche lettore e banconote, devo scegliere con quale dei quattro posso parlare. Ritengo che veramente sia ormai anacronistico. Dobbiamo assolutamente cambiare questa cosa. Abbiamo due possibilità a questo punto, quando abbiamo iniziato a parlare di questo. O facciamo una profonda revisione del protocollo attuale, leva DTS 6.1, ci inventiamo il 7.0, o definire un nuovo protocollo, no? Secondo degli standard di comunicazione informatiche. Al giorno d'oggi stiamo parlando di 5G, no? Abbiamo, a casa abbiamo la lavatrice che è cablata, cioè io posso parlare dal telefonino alla lavatrice, posso accendere la luce e spegnere tutto, no? Esistono già i protocolli. Perché dobbiamo inventarci l'acqua calda, no? L'evoluzione dell'Eva DTS sarebbe stata reinventare qualcosa che già esiste, complicandoci la vita. Per cui, a questo punto, abbiamo fatto una riflessione come gruppo di lavoro, abbiamo detto, cerchiamo di fare qualcosa, di utilizzare un protocollo, possibilmente che già esista, cioè non andiamo a costruirci tutto da zero, che sarebbe complicato, costosissimo, lunghissimo. Il mondo trasmette oggi, tutti gli apparati trasmettono, è solo il vending che non trasmette. Vediamo come possiamo farlo. Per far questo, abbiamo definito il nuovo protocollo hardware come logica, no? E il nuovo protocollo software. Questi sono i due obiettivi che dobbiamo ottenere. Sia l'hardware, cioè internamente, come parlano i componenti fra loro, per cui non più un cavo, che devo attaccare duemila cavi uno con l'altro, in executi con la macchina in MDB, verso il lettore di banconote, tutte queste cose qua. Ma un protocollo che permetta di comunicare con tutte le componenti di un distributore automatico allo stesso tempo. E ovviamente software, perché definito l'hardware, il ferro su cui le informazioni viaggiano, dobbiamo ridefinire anche che informazioni viaggiano, in che formato, in che modo. In modo da permettere a tutti di comunicare e ricevere qualunque informazione. Questi sono un po' gli obiettivi da cui siamo partiti. Per fare questo abbiamo creato un team all'interno di Confida, che è formato da fabbricanti e distributori automatici, ovviamente, che sono i primi attori che dovranno poi implementare fisicamente questo. I fabbricanti di sistemi di pagamento, uguale, perché chiaramente sono le due componenti principali della macchina. I gestori, perché poi sarete voi a fruire di tutto questo, per cui è giusto e doveroso che siano rappresentati per esprimere il proprio desiderato, sapere cosa vuole il vendi del futuro. In che direzione va? Ovviamente le software house, perché poi sono le aziende che dovranno recepire tutte queste informazioni e mettervele a disposizione. Abbiamo deciso poi, a un certo punto, di incorporare anche un ulteriore ente, che è il Politecnico di Milano, perché internamente non abbiamo le esperienze e le competenze tecniche per fare questo scouting sui protocolli, eccetera. Ci siamo guardati intorno e abbiamo detto, chi ha queste competenze, chi ha anche una credibilità a livello internazionale, perché se vogliamo proporre questo protocollo a livello internazionale, e l'obiettivo di Confida non è fare una cosa italiana, ma fare una cosa internazionale, dobbiamo dargli credibilità. Chi può dare la credibilità a livello internazionale di questo? Il Politecnico di Milano, che è una struttura che sicuramente tutti conoscete, che è quotata a livello internazionale, hanno esperienza nel settore, hanno dipartimenti specializzati in questo, per cui per loro l'IoT è pane quotidiano, ed è per questo che abbiamo, con Confida, coinvolto il Politecnico. A questo punto lascio la parola a Mario Maio. Dobbiamo ricordare una cosa importante, non si parla di cose tecniche, necessariamente di cose tecniche. I protocolli influenzeranno in maniera diretta e importante che cosa potrà fare la macchina domani e anche quanto il gestore pagherà macchina, accessori, periferiche e servizi. Quindi usciamo un po' dal concetto di pura tecnica. Qui stiamo parlando del futuro. del nostro vending. Qui non so se si riesce a fare, si sente qualcosa. Questo è un suono che chi ha più di 40 anni, quindi mi sento di dire, molti di voi riconosceranno. Questo è il primo modem che ho usato io a metà degli anni 90, quando si è cominciato a diffondere internet in Italia, quindi nel 95. I primi modem lavoravano a 14.400 BPS. Sì, diciamo, partiamo già da una situazione... Questo è l'inizio di internet che ha stravolto le nostre vite negli ultimi 30 anni. Se facciamo un parallelo tra la velocità di internet di quegli anni, del 95, e quella attuale, della fibra, questa è la differenza. Quindi la velocità di un bradipo, che ci mette 4 ore per fare un chilometro, e lo shuttle che impiegava, che con la stessa, con 4 ore, praticamente riusciva a fare tre volte il giro della Terra. Questa è, in termini di ordini di grandezza, la differenza che c'è tra la velocità di internet oggi e quella del 1995. Vediamo i protocolli. Roberto ha parlato di EVA DTS, di protocolli interni e esterni. Giusto per chiarezza, nel vending esistono due grandi famiglie. La famiglia dei protocolli che stanno dentro la macchina, con cui le periferiche parlano col distributore, e quelli più diffusi sono l'MDB e l'Executive. In Italia, decisamente, l'Executive. Poi c'è una famiglia, esiste una famiglia di protocolli che consentono di trasferire dati all'esterno. banalmente servono per rilevare i dati contabili, ma anche per rilevare i dati di funzionamento della macchina. Questa è un po' la storia dei protocolli in generale. Per darvi un'idea anche dell'età, e quindi anche fare un confronto con internet, che ricordo appunto in Italia comincia a diffondersi nel 95. Il vending nasce sostanzialmente all'inizio degli anni 60, e per 20 anni è fondamentalmente legato all'elettromeccanica, quindi non esiste elettronica. L'elettronica comincia a diffondersi all'inizio degli anni 90, e in quel periodo nasce il protocollo executive, quello che oggi noi utilizziamo nel 95% delle macchine in Italia. Nasce da Mars ai tempi, quindi una società privata, è un protocollo di proprietà di Mars, non è mai stato reso pubblico ufficialmente. All'inizio degli anni 90, su volere di Coca-Cola, viene realizzato il protocollo MDB, che ha un'altra filosofia di funzionamento, nasce in America, e viene poi utilizzato e accettato anche in Europa, con delle varianti, per poi essere unificato in un unico protocollo. Nello stesso periodo nasce l'EVA-DTS, quindi il protocollo di comunicazione verso l'esterno. Questo è un protocollo che in realtà, anche questo è l'insieme di due modi di vedere, uno americano e uno europeo, e si basa anche questo su dei protocolli di comunicazione che sono addirittura precedenti al 90, addirittura il DDCMP, che è quello che viene usato oggi dai nostri gestionali, per rilevare via IRDA, ed è la fine degli anni 70. Dal 2002, anche per via dell'unificazione dell'euro, i protocolli subiscono, quindi quelli esistenti, l'executive MDB e l'EVA-DTS, subiscono una serie di aggiornamenti, variazioni di vario tipo, legati a esigenze diverse, di vari mercati europei e americani. Vediamo questa dinamica come è stata in Italia, perché l'Italia ha avuto una dinamica che ha seguito chiaramente l'evolversi dei protocolli a livello mondiale, ma ha avuto una sua specificità. l'elettromeccanico in Italia era quello che c'era anche in America, con alcune variazioni di costruttori italiani, il protocollo executive viene adottato, da subito quasi, però in Italia, il protocollo executive nasce per le gettoniere rendiresto, era quello il prodotto per cui è stato realizzato. In Italia, alla fine degli anni Ottanta, cominciano a diffondersi sistemi chiave per una serie di problematiche che conoscete bene. Questo ha creato il diffondersi di una serie di sistemi di rilevazione, perché la rilevazione a quel punto è diventata un elemento chiave, importante, nel processo di gestione dei distributori, cosa che non è accaduta al di fuori dell'Italia, si sono sviluppati sistemi proprietari di rilevazione. Quindi l'Eva DTS non è stato considerato affatto, fino ad arrivare al 2002. Quindi l'avvento dell'euro cambia un po' le carte, il mercato tende a liberalizzarsi, entrano nuovi attori nel mercato italiano, l'arrendiresto riprende vita, e comincia ad adottare i protocolli in maniera un po' più spinta. Quindi l'esigenza di rilevare i dati con uno strumento e non tanti oggetti di vario tipo, ci porta anche noi ad adottare l'Eva DTS. E ad adottare l'MDB non tanto come sistema per parlare con la macchina, ma come sistema per connettere diverse periferiche, lettori di banconote e altro, al dispositivo cosiddetto master. In Italia abbiamo altri due elementi, che sono abbastanza recenti, la legge dei corrispettivi, che ha dato anche qui una svolta, perché ha obbligato tutti ad utilizzare, di fatto, un sistema standard. Quindi i sistemi proprietari sono usciti di scena. E questa è una cosa unica a livello europeo sicuramente, ma anche a livello mondiale. L'ultima cosa è l'industria 4.0, che ha portato necessità nuove. Quindi la connettività, la bidirezionalità, ha portato a scoprire tutte le criticità dei protocolli esistenti. Come vedete c'è una progressiva tendenza, mentre all'inizio l'interesse era focalizzato all'interno della macchina, quindi la macchina doveva funzionare bene, i sistemi dovevano parlare bene tra di loro. Negli ultimi 10-15 anni il focus si è spostato verso l'esterno. Quindi l'utilizzo appunto di app per pagare, di app per rilevare i dati, i cloud, la connettività, il controllo remoto. Questo è quello che è successo in questo percorso sostanzialmente. Quindi i nostri protocolli, sono rappresentati da questo caro mulo, sono stati tirati all'inverosimile, seguendo esigenze diverse, diverse parti del mondo. Questo percorso che abbiamo visto in Italia è dell'Italia, i corrispettivi non ci sono in Francia o in Spagna, e magari in Francia e in Spagna sono emerse altre necessità. Però i protocolli sono sempre quelli, quindi sono state fatte aggiunte su protocolli di 30 anni fa, e questa oggi è la situazione. Quindi sono protocolli che sono al limite della loro capacità. sostanzialmente quello che ci chiediamo, e adesso è del lavoro che abbiamo portato avanti, questi protocolli sono ancora adeguati per quello che è richiesto oggi al vending. Noi proveniamo da questa situazione, da un mulo che faceva bene il proprio lavoro su una mulattiera, le condizioni al contorno sono cambiate. Oggi abbiamo ancora le mulattiere, perché il vending è ancora in parte quello, non è che è stato completamente stravolto, ma intorno a noi abbiamo delle autostrade. Il mulo, che è un mezzo super efficiente nelle mulattiere, sulle autostrade fa fatica, anche se gli mettiamo gli alettoni e gli spoiler, sempre mulo rimane. E da qui nasce il lavoro che adesso il Politecnico ci illustrerà, ed è il lavoro di mesi fatto con il team di Confida. Buonasera a tutti e grazie per la presenza. Oggi viviamo una situazione, noi gestori che ovviamente hanno già rappresentato benissimo sia Roberto che Mario. Diciamo che tutti i sistemi di telemetria in commercio oggi non ci consentono la completa possibilità di controllo di tutte le periferie che sono all'interno del distributore. Ad ognuna, come giustamente dicevano, dobbiamo collegarci e questo ovviamente ci comporta delle difficoltà. Difficoltà in primis nel cablaggio, perché di fatto ad ogni sistema che vogliamo controllare, a cui vogliamo collegarci, dobbiamo tenere un cavo. Cavo che può variare da RS232 ad altri sistemi di cablaggio, che però ci complicano la vita da gestori, oltre ad occupare anche una grande quantità di spazio. Inoltre, ed è una delle cose che più ci mette in difficoltà, è che per avere una discreta qualità dei dati che appunto otteniamo da questi sistemi di telemetria, è che spesso dobbiamo duplicare le informazioni, dobbiamo duplicarle fra il sistema gestionale, il sistema di pagamento che andiamo a codificare, dobbiamo riportarli addirittura a volte anche sulle dashboard stesse dei sistemi di telemetria. In più, ad aggravare ancora di più la situazione, ogni fabbricante in media utilizza codici diversi per comunicare un determinato evento rispetto ad altri fabbricanti. Addirittura lo stesso fabbricante, ma con generazioni diverse di distributori, utilizza gli stessi codici per comunicare informazioni differenti. Dunque, l'interconnessione attuale non ci consente di avere un controllo fluido di questi dati e di beneficiare effettivamente di tutta l'innovazione che potremmo avere da questi sistemi. Parlando poi della parte invece di contenuti multimediali, ovviamente di fatto oggi ci troviamo sempre di più ad installare macchine touch e comunque con interfacce grafiche che però non possiamo controllare. La caratteristica del nostro lavoro è che abbiamo migliaia di distributori installati, centinaia, migliaia o decine di migliaia e questi ovviamente non possiamo pensare di raggiungerli fisicamente, ma dobbiamo avere uno strumento che ci consenta di raggiungerli in modo rapido e veloce. Di che cosa abbiamo bisogno? Credo di interpretare le esigenze dei gestori dicendo che la connessione innanzitutto di questi sistemi fisici, hardware, debba essere semplice, plug and play per utilizzare un termine informatico, ovvero che il sistema che noi andiamo a connettere si auto installi fondamentalmente. Oggi nei PC qualsiasi periferica si va a collegare, che sia una chiavetta USB o qualsiasi altro sistema, nel momento in cui la si inserisce automaticamente si auto installa ed è operativa. Ovviamente abbiamo bisogno di un'integrazione totale con i nostri software gestionali e le difficoltà che appunto riportava Roberto sono largamente condivise da me in primis, ma credo anche da tutti i gestori. Oggi andare a programmare un prezzo su una macchina, andare a interrogare determinate componenti della macchina è un'operazione titanica e questo ovviamente non ci dà il vero vantaggio che ci danno i sistemi più aggiornati. In più l'invio di materiali multimediali in modo semplice, tornando a quello che appunto dicevo prima, è un'esigenza, è un'esigenza perché queste macchine touch non devono essere delle semplici pulsantiere trasformate in monitor, ma devono essere degli strumenti di comunicazione. Degli strumenti di comunicazione che possiamo utilizzare per fare marketing, per fare tante altre attività, ma addirittura per andare a modificarle in tempo reale in base all'esigenza del cliente stesso. Ovviamente abbiamo bisogno di monitorare tutte le componenti hardware che stanno all'interno della macchina, la macchina stessa, i suoi componenti, le componenti cashless, la gettoniera, il lettore di banconote, il lettore di carte di credito, lo diceva giusto appunto Mario, dobbiamo essere in grado di poterci inserire nella catena di comunicazione fra i vari sistemi di pagamento e poterli interlocuire in modo semplice e dinamico con tutti. ovviamente a questo si aggiunge anche la necessità di andare a programmare una serie di parametri in modo semplice e intuitivo e non parlo solo di parametri macchina, ma parlo di parametri sui sistemi di pagamento, parametri di prezzo, parametri di funzionalità della macchina. Quale potrebbe essere, quale sarà, credo, l'impatto sull'attività delle gestioni con questo nuovo protocollo e con una modalità di gestione molto più efficiente. Le vendite in tempo reale, che già in questo momento otteniamo, ma se comunque gestite molto meglio, ci potranno portare sicuramente nel breve termine a un controllo degli stock e a una pianificazione dinamica dei giri e andare a rivoluzionare la modalità operativa con cui abbiamo sempre operato, ovvero di giri fissi, statici. La pianificazione dinamica ci fa razionalizzare i costi e in un mondo in cui le tasse ci opprimono e le difficoltà operative sono sempre più ampie è ovvio che razionalizzare i costi ci dà dei vantaggi. Controllare in tempo reale gli assortimenti, le rotazioni di vendita, cose che attualmente oggi facciamo con estrema difficoltà. Andare a monitorare in tempo reale effettivamente quali sono gli articoli che ruotano di più, andare a modificare in modo dinamico i planogrammi delle macchine. Sono tutte attività che rivoluzionano il concetto di oggi del nostro lavoro. Poi c'è il tema della programmazione dei parametri da remoto. Parlavamo appunto di prezzi, parametri macchina, parametri di sistemi di pagamento che collegati al marketing mirato ci danno la possibilità di andare a intervenire in tempo reale sul distributore da un singolo cliente per poter mettere in pratica promozioni, cambio prezzo, prezzi promozionali, iniziative di marketing mirato, vendite combo, però sono attività che se le pensiamo al singolo distributore possiamo anche farle fisicamente. Se pensiamo di cominciare a applicarle con una logica intesa come logica estesa su tanti distributori, ovviamente c'è la necessità di avere una fluidità diversa rispetto al passato. tutta la parte di allarme in tempo reale che deve essere chiara, semplice e intuitiva ci darebbe sicuramente una maggiore rapidità di intervento con una conseguente migliore percezione del servizio da parte del nostro cliente, un aumento inevitabile delle vendite che ovviamente viene istantaneamente nel momento in cui la macchina sta a meno tempo ferma. Immaginiamoci una segnalazione di guasto tradizionale in cui il cliente ci chiama e ci dice che la macchina è ferma, mediamente abbiamo perso la sua consumazione che ci sperava di poter fare. Se noi abbiamo un allarme in tempo reale che ci consente di intervenire prima di questa esigenza di pausa, sicuramente qualche vendita l'abbiamo recuperata. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Confida per l'invito essendo in qualche modo l'unico intromesso qua quindi un pochino fuori dal mondo del vending consentitemi due parole sul laboratorio che rappresento. Allora, io sono Rosvan Ptix, sono ingegnere in telecomunicazioni e sono direttore di un laboratorio interdipartimentale del Politecnico di Milano. Questo laboratorio nasce circa nel 2006 come iniziativa congiunta di due dipartimenti diversi quindi uno dell'elettronica informazione in bioingegneria quindi lato tecnologico e l'altro di ingegneria gestionale quindi lato esigenze business per fare cosa? Per venire incontro alle esigenze delle aziende per fare trasferimento tecnologico verso le aziende. Quindi essendo in questo posto abbastanza interessante Confida ci ha approcciato proprio per presentarci questa opportunità quello ovviamente di in qualche modo partire da un foglio bianco per ridisegnare in qualche modo il futuro della vending machine dal punto di vista dell'architettura dei protocolli utilizzati. Quindi ovviamente noi essendo accademici di natura ci siamo basati tanto sull'interazione con il gruppo di lavoro che è un gruppo di lavoro creato da tante aziende quindi rappresentanti sia dei fabbricanti che dei gestori dei sviluppatori del gestionale e tanti altri che ognuno portava ovviamente la sua la sua prospettiva. Quindi siamo partiti dalla individuazione dei requisiti e innanzitutto anche diciamo dei punti fermi quindi dei paletti che non potevano essere in qualche modo bypassati scusatemi l'inglesismo. Poi siamo partiti con la definizione dell'architettura della macchina e a posteriori abbiamo cominciato a ragionare sui protocolli che potevano essere applicati per questa architettura. Ci tengo a precisare che ancora è un lavoro in corso quindi non abbiamo ancora i risultati definitivi però ci tengo a presentarvi diciamo alcune riflessioni alcuni risultati intermedi e tutto questo poi si deve concludere con la realizzazione di un piccolo dimostratore che va diciamo a presentare ad integrare tutto quello che è stato ideato in una demo diciamo così. Benissimo penso che gli interventi precedenti hanno in qualche modo esaurito quasi il perché perché dobbiamo creare un nuovo protocollo. Comincio a tirare un pochino le righe raccontandovi un pochino anche quello che in qualche modo noi dall'esterno abbiamo visto abbiamo capito diciamo da tutte queste interazioni. Il punto principale è la frammentazione dei protocolli sia quelli all'interno della macchina che quello verso l'esterno. Quindi non solo protocolli a livello fisico stiamo parlando di tutte le sigle che vedete alle mie spalle ma soprattutto anche diciamo dei protocolli applicativi che gestiscono la logica della comunicazione della macchina ovvero in primis NDB più il protocollo executive. Sopra questo problema diciamo a livello basso ci sono problemi di interpretazione del dato quindi il dato che viene veicolato come deve essere interpretato e come è stato ampiamente discusso prima da Roberto Pellegrini in pratica a livello software si sono create tutta una serie diciamo di casi particolari durante l'evoluzione di questo protocollo durante la storia abbastanza ricca di questi macchini casi per cui ovviamente adesso è tutto un'eccezione continua quindi è molto difficile far parlare tra di loro i diversi moduli dentro la macchina e ancora a maggior ragione parlare poi con tutto il software gestionale un'altra diciamo ingestatura è quella relativa proprio al modo di utilizzo quindi un po' di anni fa tutto veniva veicolato attraverso diciamo linee di prezzo quindi era abbastanza semplice andare lì schiacciare il bottone prendevi il caffè o quello che volevi ad oggi il mondo si è evoluto e quindi ad oggi la gente si aspetta una personalizzazione del servizio una personalizzazione del prodotto che viene erogato uno vuole prendere il cappuccino con una spolverata di cacao e con la brioche di fianco questo gestirlo con i protocolli attuali è preso che è impossibile infine un altro elemento che fino adesso non è stato menzionato ma in qualche modo ha il suo peso e quello relativo proprio alle richieste che arrivano diciamo dall'agenzia delle entrate ovvero quello per il monitoraggio di tutto il parco di macchine con esse quindi partendo da questo siamo diciamo abbiamo cominciato a fare un pochino di ragionamenti per capire come indirizzare tutto quanto e l'architettura diciamo che andiamo a proporre deve tenere conto di tutto di tutto quanto quindi tutte queste limitazioni deve tentare di spingersi oltre e in più deve fornire tutta una serie di flessibilità per esempio non deve essere troppo ingessante dal punto di vista della configurazione del macchinario quindi quello che fa il gestore ad oggi deve essere consentito deve essere diciamo possibile farlo anche in un futuro quindi tutto non deve essere troppo troppo cablato poi deve essere basato su una serie di standard aperti condivisi quindi tutti in qualche modo devono utilizzare gli stessi standard questo per in qualche modo garantire l'interoperabilità tra questi dispositivi e infine devono supportare i nuovi servizi quindi sia i servizi che sono già sperimentati in fase embrionale ad oggi che quelli che verranno in qualche modo sviluppati nel futuro scusate ho fatto ho saltato la situazione attuale però questa in pratica è stata già spiegata dagli interventi precedenti quindi all'interno della macchina ci sono tutta una serie di problematiche di comunicazione in quanto per natura storica come si diceva prima ogni componente in qualche modo parla con un particolare interlocutore quindi ci sono diciamo delle preferenze di dialogo in questo senso per cui ci si arriva a delle situazioni un pochino bizzarre quello che si citava prima avere due modem che fanno sì che attraverso questi due modem si riesce a dialogare sia con il controllore della macchina che magari anche con il sistema di pagamento l'idea che ci siamo fatti è quello di passare a un approccio diverso ovvero passare a un bus che può essere non necessariamente fisico ma può essere anche gestito a livello logico condiviso dove ognuno parla lo stesso linguaggio per lo comunica in maniera completamente aperta in modo che può essere ingerito quindi quel dato può essere utilizzato da qualsiasi altro elemento quindi per esempio la gettoniera può raccontare a tutti che ha ricevuto un certo credito così come anche diciamo l'uità di controllo può dire a tutti che ha appena erogato un certo prodotto e questo sarebbe l'approccio verso cui tendiamo tutto questo nella logica ovviamente della macchina con essa quindi quello che in qualche modo caratterizza anche tutto il movimento dell'industria 4.0 ovvero far sì che la macchina non ragiona solo in locale ma comunica ha un suo alter ego un suo gemello digitale nel cloud e quindi tutto quanto che succede a livello fisico in qualche modo viene replicato anche a livello virtuale quindi su in un cloud facilitando molto tutta la parte di gestione perché a quel punto il gestore si trova con una fotografia istantanea aggiornata su tutto il suo parco di macchine ovviamente questo è il caso ideale verso cui ci si tende siamo assolutamente consci del fatto che un domani non ci si riuscirà a arrivare al 100% del parco installato su questo tipo di approccio quindi dove tutto gira direttamente parlando con il cloud ma ci saranno anche dei casi dove la macchina per diverse esigenze deve lavorare in locale quindi deve lavorare offline quindi anche questo è uno dei casi che in qualche modo deve essere contemplato all'interno dello standard bene quindi attraverso questi focus group che sono stati effettuati siamo usciti a convergere verso in pratica due principali casi di uso quindi quello dell'erogazione del prodotto singolo sia nel caldo che del freddo e quello del prodotto multiplo della vendita multipla quindi i diversi abbinamenti che si possono effettuare tutto questo declinato ovviamente sia per modalità online della macchina che modalità offline e poi ovviamente anche dal punto diciamo di fruizione verso l'utilizzatore integrando le diverse metodologie quindi sia direttamente dal dispositivo di controllo touchscreen o quello che sia del distributore che attraverso dei totemi esterni piuttosto che direttamente dalle applicazioni e quindi partendo da questi casi di uso siamo riusciti ad estrarre una serie di funzionalità che devono caratterizzare il nuovo protocollo ovviamente queste caratteristiche li vedete elencate qua faccio solo alcuni alcuni riferimenti puntuali la gestione dei prezzi quindi si desidera ovviamente passare da delle linee di prezzo a una gestione puntuale quindi ogni prodotto caricato dovrebbe avere un suo prezzo e tendenzialmente questo l'ideale sarebbe gestirlo direttamente a livello centrale quindi su un sistema informativo direttamente presso il gestore o nel cloud che poi in qualche modo viene comunicato in tempo reale al macchinario in modo di poter gestire anche politiche di prezzo dinamiche quindi magari in funzione di logiche che vengono guidate o dal mercato o dall'interlocutore particolare o da qualunque altro elemento esterno possono consentire al gestore di cambiare il prezzo di un certo prodotto o di un certo ingrediente a questo punto perché anche la combinazione quindi tutti i prodotti che vengono erogati sulla base di una ricetta anche questi avranno le loro modalità di pricing dinamico un altro elemento è la gestione degli ingredienti non solo la gestione dal punto di vista della scorta o della giacenza di questi ingredienti all'interno della macchina ma anche dal punto di vista della comunicazione verso l'utilizzatore ad oggi l'utilizzatore ci tiene a sapere quali sono gli allergeni per esempio che ci sono in un certo prodotto ancora prima di comprarlo come può fare questo attraverso l'applicazione semplicemente potrebbe selezionare il prodotto di interesse e a quel punto direttamente dal cloud si potrebbe scaricare tutta la lista degli ingredienti come ad esempio a casa nel mondo dei supermercati quando si fa la spesa online prima guardi quali sono gli ingredienti e poi lo compri un altro elemento fondamentale è quello della telemetria quindi essere in grado di sapere vita, morte e miracoli di quel distributore sapere esattamente nello stato in cui si trova sapere lo stato diciamo la giacenza dei diversi ingredienti infine un altro elemento importante soprattutto per la direzione in cui si stanno evolvendo i distributori ad oggi ovvero la presenza di grossi touchscreen grossi schermi integrati direttamente nel distributore e la possibilità di erogare contenuti multimediali quindi anche questi devono essere in qualche modo contemplati pilotati attraverso l'utilizzo dello standard non per l'ultimo ovviamente parliamo anche dei aggiornamenti firmware perché più complesso sarà la macchina più necessiterà di avere diciamo dei aggiornamenti firmware senza dover mandare necessariamente la persona per fare l'aggiornamento con la chiavetta vecchio stile infine poi ci sono una serie di altre funzionalità che in qualche modo esulano dal protocollo di comunicazione però devono essere di cui dobbiamo tenere conto per esempio la profiliazione degli utenti piuttosto che l'interazione con gli utenti attraverso assistenti vocali sappiamo tutti di Google Home Alexa e via scorrendo quindi tutto questo sono in qualche modo fanno parte diciamo della lista della spesa al di là quindi di questi aspetti relativi proprio alla funzionalità erogata della macchina poi abbiamo degli aspetti un pochino più di base quindi quello di avere una comunicazione distribuita tra i diversi componenti della macchina quindi in tempo reale ogni componente dovrebbe sapere esattamente quello che fanno gli altri per evitare poi situazioni dove devo passare per vie traverse per sapere se ho il credito necessario se l'ho ricevuto dalla gestioniera piuttosto dal lettore banconote e così via devo supportare un alto livello di configurabilità della macchina quindi ovviamente nel momento in cui la macchina viene creata o preparata diciamo dal gestore per essere messa in servizio a quel punto io posso decidere esattamente quali sono i moduli che vanno integrati nella macchina e di conseguenza la macchina si deve in qualche modo auto configurare o auto aggiustare nel momento in cui poi deve comunicare ognuno di essi devono comunicare tra di loro la parte multimediale l'abbiamo già sviscerata e ovviamente l'ultimo è quella dell'elemento della raggiungibilità quindi devo essere in grado di poter comunicare con la macchina come abbiamo detto tranne quei casi particolari dove proprio non ci si arriva dal punto di vista diciamo della comunicazione fisica quindi quei cavi di cui si parlava prima che vanno a integrare a far comunicare diversi blocchi funzionali tra di loro abbiamo preso un approccio agnostico quindi nel senso non andiamo tendenzialmente a imporre un certo un certo standard di comunicazione ma tendenzialmente il protocollo di comunicazione dovrebbe essere in grado di adeguarsi a supportare diversi standard di comunicazione ovviamente prendendo quelli più rilevanti ad oggi in essere sia nel mondo industriale che nel mondo del vendic specifico e qua stiamo parlando tendenzialmente di un approccio Ethernet o Ethernet like dove ogni singolo componente parla con gli altri attraverso questo protocollo di comunicazione oppure si può pensare anche all'utilizzo di un CAN-BUS senza entrare in dettagli troppo tecnici diciamo che questo non è un vincolo e quindi lo possiamo anche tralasciare per un attimo anche per quello che riguarda la comunicazione verso l'estero quindi dal punto di vista proprio di qual è lo standard di comunicazione a livello fisico anche qua possiamo supportare esattamente tutto quello che ad oggi è inutilizzo quindi da il classico Ethernet piuttosto che dalla DSL dalla fibra fino alle comunicazioni cellulari con il 3G 4G e 5G e quello che ci sarà un domani perché come dicevo prima tutti i livelli superiori devono essere agnostici rispetto a livello fisico infatti il punto importante qua è il livello superiore ovvero come vengono scambiati i messaggi e poi cosa contengono i messaggi sono i due elementi che vedete evidenziati in verde quindi come vengono scambiati i messaggi attraverso un meccanismo di public subscribe quindi ogni componente pubblica diciamo gli eventi che accadono e chi fosse interessato riceve quindi si registra per ricevere questi 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 eventi immaginatevi twitter ognuno pubblica un messaggio con un certo hashtag chi fosse interessato a seguire che il hashtag riceve in automatico tutti quei messaggi questo è il concetto niente di più niente di meno però una volta stabilita questo tipo di comunicazione bisogna decidere definire bene cosa ci va dentro il messaggio perché altrimenti comincio a leggere messaggi diversi e ci troviamo di nuovo nella situazione precedente quindi devo definire l'ontologia diciamo il modello informativo che va a definire esattamente quali sono i campi che ci sono in questi messaggi e qua stiamo entrando diciamo nel mondo delle ontologie piuttosto che dei modelli informativi che è un mondo abbastanza aronioso ve lo già anticipo quindi tenterò di essere diciamo molto molto breve su questo aspetto per evitare situazioni di svenimento qua in massa quindi basta dire che in pratica abbiamo identificato 3-4 soluzioni presenti sul mercato anche qua abbiamo approcciato questo task diciamo senza tentando di non reinventare l'acqua calda quindi tentando di identificare quello che è già esistente che funziona e che meglio sia adatta alle esigenze specifiche quindi il primo il primo standard che abbiamo identificato è quello di Vorto si chiama Vorto è stato proposto dalle Cliff Foundation avendo retro dietro Bosch che sta spingendo molto sia per il mondo industriale quindi per tutti i suoi prodotti nel ramo industriale che per il mondo della smart home quindi per il mondo diciamo dei beni elettronici un altro potenziale standard è quello sviluppato diciamo dalla W3C quindi dalla ente che ha codificato in pratica tutti gli standard relativi al mondo internet quindi dall'HTTP al CSS HTML e così via che ha sviluppato uno standard per il collegamento degli oggetti in generale molto generico che si chiama Web of Things questo è un altro degli standard che abbiamo preso diciamo in considerazione e infine abbiamo un paio di standard proposti dalla GS1 anche per chi di voi non lo conosce è l'ente che gestisce a livello mondiale tutti i codici a barre poi tutta una serie di aspetti relativi al mondo dei tagger e di di identificazione automatica in radiofrequenza e tutta una serie di altri elementi relativi all'EDI quindi interscambio di documenti elettronici loro hanno sviluppato questo standard che è indirizzato per il mondo della tracciabilità che si chiama IPCIS Electronic Product Code Information Services che in qualche modo va mano in mano con un vocabolario che è stato definito sempre da loro che è il Common Business Vocabulary che in qualche modo definisce esattamente quali sono le diverse entità di diverse tipologie di messaggi che possono esistere e mi aggancio a questo punto proprio per sollevare un altro elemento importante una volta definito questo standard deve essere in qualche modo personalizzato per il vostro caso specifico quindi i messaggi devono essere concordati ok e poi la cosa importante è che ci deve essere una terza parte che in qualche modo si prende carico della gestione di questi di questi messaggi di questo dizionario perché altrimenti si torna allo stato precedente dove ognuno in qualche modo si gestisce in maniera poco interoperabile la definizione dei vari elementi e quindi questo non dovrebbe accadere quindi questo è un punto di attenzione che in qualche modo prima o poi dovrà essere affrontato proprio due parole come vi promettevo prima non entro nel dettaglio di come funziona questo standard basta dire che nasce un pochino dall'assigenza di assicurare che tutti una serie di dispositivi fisici potranno avere potrebbero acquisire una loro identità nel mondo digitale una loro rappresentazione che in qualche modo è descrittiva quindi dice esattamente cosa è come è composto e cosa riesce a fare in modo di fare il collegamento con tutto il mondo delle piattaforme cloud quindi delle piattaforme di gestione direttamente a livello di cloud e qua vengono una bellezza di questo approccio è quello che in qualche modo è direttamente subito interoperabile con tutta una serie di piattaforme cloud che esistono ad oggi in utiliso Amazon Web Services Thinkworks di PTC e via scorrendo e vanno a creare un repository comune da cui si può pescare per anche costruire la macchina personalizzarla in funzione delle esigenze specifiche e chiudo per non annoiarvi troppo con un piccolo esempio che fa vedere come avviene l'interazione sia all'interno della macchina che verso i sistemi gestionali cloud quindi quando si reca presso la macchina e seleziona un caffè per esempio per farlo breve a quel punto comincia una serie di scambi di messaggi sia all'interno della macchina utilizzando questo protocollo di public subscribe che avevo menzionato prima che potrebbe essere MQTT uno di quelli meglio adatti dove dentro ci sono tutta una serie di informazioni relativi alla richiesta e scattenano tutta una serie di interazioni tra la macchina per esempio nel momento in cui la gettoniera o comunque il sistema di pagamento riceve il credito lo fa sapere agli altri gli altri ricevono questa informazione e decidono se possono o meno erogare quel bene innanzitutto se c'è la giacenza o meno tutte queste comunicazioni vengono spedite in pratica in tempo reale anche verso il cloud in modo che qualcuno che guarda diciamo da un presunto control room riesce poi a vedere in tempo reale tutte le transazioni effettuate tutta la parte di aggiornamento del firmware del dispositivo del software del dispositivo piuttosto che la comunicazione dei file multimediali quindi per per caricare la macchina con dei video o altri elementi multimediali che poi vengono erogati durante l'interazione con l'utilizzatore vengono seguono un canale tradizionale diciamo quindi attraverso una comunicazione HTTPS mi fermo qua lasciandovi con i prossimi step che dobbiamo effettuare ovviamente consolidare questa architettura approfondire un pochino meglio la semantica dei messaggi per capire bene quale delle soluzioni individuali va meglio per soddisfare le vostre esigenze e infine completare anche questo piccolo dimostratore che accennavo all'inizio grazie buonasera a fronte del punto di quello che ha spiegato fino adesso il professor Pitic volevo provare a dare un esempio un po' più pratico di come sarebbe un processo di acquisto di un prodotto da un distributore automatico e quindi per poterlo renderlo un po' più diciamo capibile perché è andato un po' troppo nel dettaglio probabilmente quindi provo a rendere un po' più intellegibile la cosa fondamentalmente quello che si sta pensando è un processo di gestione dove appunto come diceva lui dove non c'è un vero master cioè il master da noi si intende chi tiene il bandolo delle statistiche fondamentalmente in questo caso non c'è più un vero master perché chi può collettare le informazioni sono tutti gli elementi che insistono sul bus questo è un esempio di una macchina offline dove non abbiamo la parte più spinta di connettività eccetera che comunque cosa comporta l'attività di acquisto sulla macchina di fronte ad un schermo o ad un qualsiasi elemento che mi crea la parte grafica dell'acquisto io seleziono la bevanda pongo sul bus quello che è la mia richiesta di quello che voglio acquistare quindi desidero un caffè macchiato con la spruzzata di cioccolato e dal bicchiere grande col tappo questo tipo di selezione oggi per gestirla dovremmo fare 3000 tabelle prezzi combinazioni eccetera in realtà una volta che pubblico sul bus questa combinazione che voglio dall'altra parte la macchina riceve questa informazione il sistema di pagamento riceve questa informazione cioè a questo punto tutti quelli che sono follower di quella richiesta si mettono in atto per capire e darle le eventuali risposte nel caso 2 la macchina risponde sì sono in grado di fornirti quel tipo di selezione quindi rispondo in modo positivo sul fatto che riesco a dartela il sistema di pagamento che può aver costruito il prezzo può averlo in corpo o quello che è dice ok io sono in grado di potertelo dare nel momento in cui poi interdisco i soldi il sistema di pagamento dice è possibile effettuare l'acquisto l'acquisto quindi viene riportato sulla parte grafica di un touch della macchina o può essere anche di un app o di qualsiasi altro elemento che mi possa dire sì lo posso acquistare quindi è partita la parte di vendita e la macchina parte ad eseguire quello che gli è stato chiesto fondamentalmente alla fine quando il prodotto va a buon fine la vendita viene fatta in modo corretto la macchina risponde in modo positivo che ha terminato di fare l'erogazione il sistema di pagamento riceve l'informazione se deve dare il resto se non deve darlo gestisce tutto quello che è la pratica economica nei confronti del cliente e la parte grafica invece risponde sul fatto che la bevanda è pronta da ritirare questo come vedete è un processo che è abbastanza distante da quello di cui siamo abituati oggi a seguire con un protocollo executive price holding con tutti i prezzi 250 prezzi tutto quello che è qui diventa una cosa dove ognuno ha il suo compito ognuno deve fare quello che gli viene chiesto il pagamento fa il pagamento la macchina fa l'erogazione la parte grafica la fa la sua e fondamentalmente tutti sono al corrente di quello che passa su quel bus io come gestore posso attingere quell'informazione da tutti tra gli elementi che insistono sul bus perché tutti lo sanno cioè lo sa la macchina lo sa il sistema di pagamento lo sa l'interfaccia questo toglie l'univicità del sistema dell'unico sistema con cui posso riprendere le statistiche questo fondamentalmente è come si pensa di farlo funzionare la cosa diventa ancora più complessa tra virgolette ma interessante nel momento in cui la macchina invece è online cioè è collegata verso l'esterno si comporta nello stesso modo cioè il cliente seleziona la sua bevanda viene messo sul bus questa informazione può essere che il cliente si è riconosciuto quindi attraverso la telemetria viene individuato che questo cliente faccio un esempio non può avere prodotti col glutine quindi gli risponde guarda che tu quel prodotto che hai scelto non puoi averlo oppure può dargli una scala di prezzi diverse rispetto ad un altro cliente perché è praticamente tracciato come cliente e quindi porto tutte queste informazioni verso il bus di comunicazione do la costruzione del prezzo della bevanda quindi di selezioni anche multiple do la costruzione il prezzo vero e proprio che il sistema di pagamento in loco sulla macchina è dedicato ad accettare con moneta banconota o app di pagamento o comunque carte di credito e il processo funziona nello stesso modo quindi do l'informazione la macchina risponde che ha la possibilità di farlo il sistema di pagamento che ha i soldi adeguati parte la vendita e fondamentalmente si chiude nello stesso modo dell'altro dando ovviamente l'ok alla fine selezione anche qua cosa avviene che fondamentalmente via cloud so esattamente cosa ha venduto cioè posso dirti che ha venduto 3 grammi di zucchero in un 7 grammi di caffè e 5 di latte che ho dato quel bicchiere specifico che ho dato il coperchio che ho fatto una certa attività quindi che ho costruito una certa selezione che portato all'interno del gestionale del cloud mi può dare già delle informazioni sul refill che dovrò fare la volta successiva su tutto quello che devo fare eventualmente a livello di logistica su quello che riguarda le macchine questo sono i paradigmi da cui siamo partiti per poter appunto costruire questo nuovo concetto di bus di comunicazione quindi vedete che fondamentalmente qualsiasi periferi che io domani aggancio nel momento in cui l'aggancio su questo bus automaticamente se ha un compito da svolgere automaticamente si adegua quindi il plug and play che chiedevano tutto questo tipo di informazioni tutto questo tipo di gestione che è sulla macchina poi potrà essere la LAN potrà essere un CAN quindi sarà il connettore diverso ma fondamentalmente è sempre una catena di collegamenti a quel punto si autoconfigura la macchina ed è pronta a rispondere in determinato modo questo tipo di protocollo ovviamente fa pugni con quello vecchio quindi anche la generazione della macchina o dei sistemi di pagamento o di tutto quello che graviterà attorno a questa configurazione difficilmente potrà essere quello attuale quindi ci sarà uno stacco tecnologico abbastanza importante quindi anche per noi costruttori di macchine di sistemi di pagamento vuol dire fare un salto generazionale non indifferente poi magari ci saranno macchine che lavorano tranquillamente ancora con l'attuale sistema e quindi il mulo che prima diceva Maio continuerà a esserci perché sarà quello importante ma in certe postazioni in certe locazioni dove ho necessità di dare certi tipi di prestazioni ovviamente dovrò magari fare certe scelte per poter ottenere quello che oggi non riesco ottenere o lo tengo in modo tirato per i capelli insomma quindi questo è un pochino quello che volevo spiegarvi in modo molto più terra a terra di come potrebbe essere un processo di acquisto su un distributore automatico tutto qua buon pomeriggio a tutti anche da parte mia innanzitutto vorrei ringraziare Confida per avermi invitato a partecipare a questa tavola rotonda i colleghi che mi hanno preceduto e tutti voi che avete resistito fino all'ultimo intervento dell'ultima tavola rotonda quindi ho l'arduo compito di tenere alta l'attenzione naturalmente la mia presentazione non verte su argomenti tecnici che sono già stati ben descritti nelle presentazioni precedenti però mi aggancio a quello che abbiamo appena discusso per condividere con voi alcuni concetti che rappresentano un po' la linea guida oggi con cui stiamo gestendo EVA l'EVA è questa associazione europea che sta a Bruxelles che se vogliamo per anni è stata in qualche modo guidata soprattutto da figure del nord Europa che lavorano su dinamiche completamente diverse su mercati diversi rispetto a quello italiano o rispetto a quelli sud europei tra l'altro non sono neanche i più grandi in termini di fatturati in termini di dimensione per quanto riguarda il mercato del vending due anni fa è stato completamente rinnovato il consiglio direttivo e proprio un mesetto fa abbiamo avuto un evento in cui sostanzialmente è stato confermato anche per il prossimo biennio e integrato anche con alcune nuove figure la presenza italiana in particolare è molto forte all'interno del consiglio direttivo adesso siamo in sei figure per cui è chiaro che stiamo portando avanti in modo importante le esigenze del mercato italiano e in generale del mercato sud europeo affiancati anche dalla collaborazione della partnership abbiamo soprattutto con spagnoli e francesi e all'interno di questo contesto si inquadra un po' anche quello che stiamo andando a fare nel breve e nel medio termine in termini brevissimi parto con questa slide il testo inglese non è una dimenticanza che ho lasciato o una distrazione che ho lasciato nella slide ma ho voluto riportare pari pari il contenuto della convocazione di un meeting che si trarà la prossima settimana a Bruxelles del comitato che lavora sugli standard e sui sistemi di pagamento cioè esattamente sui protocolli di cui abbiamo appena parlato e noi come confida porteremo ciò che è stato appena presentato come un progetto abbastanza strutturato non ancora definitivo che però potrebbe rappresentare davvero la linea guida la direttrice su cui lavorare potrebbero esserci altre proposte sì senz'altro perché abbiamo appena sentito che le esigenze del mercato e non solo quello italiano sono ampiamente diffuse relativamente a un rinnovamento dei protocolli questo sicuramente però è chiaro che con questa proposta già abbastanza strutturata definiamo la direttrice lungo la quale lavorare dopodiché ci potranno essere delle integrazioni delle aggiunte delle modifiche parziali ma lo schema lo scheletro di base dovrebbe essere questo quindi la prossima settimana alcuni di noi saranno direttamente a Bruxelles all'interno di questo comitato che ha una connotazione principalmente tecnica e cercheremo appunto di portare avanti tutto quello che abbiamo appena tutto quello che abbiamo appena presentato questa presentazione a brevissimo termine la prossima settimana si inserisce all'interno di un contesto più ampio che vorrei condividere con voi un mese fa quando abbiamo avuto la convention per celebrare il venticinquesimo anniversario di Eva alla fine sostanzialmente della conferenza alcuni di voi erano presenti hanno già ascoltato alcuni di questi concetti mi fa piacere però che tanti di questi argomenti se non tutti sono stati parzialmente toccati anche nelle presentazioni di questa mattina quindi evidentemente la strategia di Eva e i punti salienti che connotano questa strategia sono veramente molto attinenti alla realtà alla pratica che oggi noi tutti viviamo sul nostro mercato innanzitutto l'ho appena detto stiamo aumentando moltissimo la collaborazione con le associazioni nazionali in particolare in questo caso con Confida devo dire che Confida sta svolgendo un ruolo veramente importante con Eva rispetto devo dire rispetto alla gestione precedente e quando parlavo di guida da parte di figure del nord Europa ne parlavamo durante il pranzo con alcuni di voi erano dieci anni sostanzialmente che c'era una presidenza nord europea quindi nell'ultimo biennio anche attraverso delle situazioni pratiche dei casi concreti abbiamo cercato un po' di cambiare questa cultura richiede tempo non è una cosa che si può fare immediatamente ci prefiggiamo anche nel prossimo biennio di lavorare fianco a fianco con le varie associazioni nazionali per migliorare ulteriormente ciò che già abbiamo raggiunto sapendo comunque che c'è ancora molto da fare il nostro compito non è finito qua stamattina abbiamo parlato di direttiva europea relativa alla plastica e di quanto è complesso questo mondo è chiaro che e quanto poi gli stati nazionali possono interpretare in modo diverso le direttive europee gestite da Bruxelles quindi è chiaro che questa attività che noi stiamo seguendo direttamente avendo delle nostre figure a Bruxelles esperti di questi settori ci aiutano molto a lavorare in quest'ottica e a seguito di questo naturalmente una forte attività di lobby è essenziale seguire passo passo l'evoluzione di queste direttive come nascono come vengono modificate e cercare in qualche modo di spiegare quelle che sono le esigenze del nostro settore e di modificare per quanto possibile ovviamente ciò che viene deciso a Bruxelles dopodiché è chiaro è molto difficile raggiungere degli obiettivi a breve termine pensate solo che il Parlamento europeo nelle recenti elezioni di maggio è stato rinnovato per i due terzi il 65% dei membri sono nuovi sostanzialmente quindi è chiaro che adesso stiamo cercando di ristabilire una serie di relazioni di contatti soprattutto con i nuovi membri uno dei nostri obiettivi nei prossimi mesi è quello di organizzare un evento all'interno del Parlamento europeo in modo tale da testimoniare ancora di più direttamente con alcuni parlamentari quelle che sono le esigenze del nostro settore e far capire loro quelle che sono le problematiche le minacce ma anche tutte le opportunità di cui ampiamente si è discusso questa mattina il presidente Sangalli stamattina mi sono segnato una frase diceva se uscissimo di qui e chiedessimo a una persona per strada cosa è il vending cosa è la distribuzione automatica nonostante un utilizzo quasi giornaliero di 26 milioni di persone difficilmente riuscirebbe a descriverci esattamente di che cosa stiamo parlando diciamoselo chiaramente l'immagine del vending è molto migliorata negli ultimi anni ma c'è ancora tanto da fare da parte di tutti e quindi questo è anche uno degli obiettivi che ci siamo prefissati come linea guida di Eva per quanto riguarda i prossimi due anni tutto ciò lo facciamo anche per raggiungere degli obiettivi finali è chiaro che come associazione europea vogliamo e dobbiamo diventare il punto di riferimento europeo naturalmente appoggiandoci su le associazioni nazionali su tutti gli stakeholder su tutti i maggiori player infatti in questo in quest'ambito stiamo lavorando molto anche per allargare la base associativa e far sì che tutti i maggiori player internazionali siano membri siano membri di Eva quindi si sta lavorando molto su questo e alla fine l'obiettivo finale che penso di poter condividere con voi sia questo chiaramente dobbiamo portare avanti le esigenze del nostro settore dei nostri associati dei nostri clienti per costruire il miglior futuro possibile per il vending questo è l'obiettivo finale che ci siamo dati e vogliamo ovviamente raggiungerlo in modo più concreto possibile nei prossimi due anni questo è quanto vi ringrazio per l'attenzione bene ritengo che sia stata una giornata intensa con tanti stimoli a partire dal presidente Sangalli dai politici che hanno partecipato e dai tecnici che hanno partecipato a queste assise ritengo che i tre argomenti le tre tavole rotonde rispecchino le esigenze attuali del nostro settore da quelle stringenti della politica che come avete visto tentiamo sempre di coinvolgere per essere propositivi noi non critichiamo solo ma proponiamo delle soluzioni lo facciamo come giustamente diceva Paolo con delle lobby cerchiamo di lavorare e far capire le nostre esigenze e le esigenze di un settore che come ribadisco a livello di filiera è leader a livello europeo e qualcuno dovrebbe questo riconoscercelo e quindi darci la possibilità di esprimerci e lavorare come qualcuno diceva senza gli ostacoli che sistematicamente ci pongono sul nostro cammino per essere più concreti saremo propositivi anche in prossimo futuro perché avete visto sono venuti degli esponenti politici che magari non possono decidere l'esito delle 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 proposte che ha fatto il governo ma una cosa abbiamo ottenuto quello ancora una volta di essere visibili con i due politici che c'erano in sala abbiamo preso degli appuntamenti nella fase tra l'approvazione delle norme degli emendamenti tra il senato e la camera per fare e cercheremo di organizzarla insieme a Michele una conferenza stampa alla camera dei deputati per spiegare per spiegare nuovamente che non è la plastic tax e non è la plastic la tassa sullo zucchero quello che può risolvere il problema dell'ambiente ma è sicuramente il riciclo abbiamo fatto proposte le riproporremo ancora alla camera dei deputati dove diremo quale sono le nostre la nostra visione e come si possono risolvere alcuni problemi attraverso l'educazione del consumatore finale io prima sono uscito a fumare una sigaretta perdono per l'avere fatto ma nell'angolo di fronte al confcommercio c'è pieno di bottiglie e bicchieri di plastica nell'erba quindi è solo l'educazione non è la tassa perché la tassa può solo arrivare sulle famiglie e dei primeri consumi ma sicuramente non educherà le persone a fare quello che devono fare quindi queste assisi ritengo che stiano diventando e lo vedo anche dalla vostra presenza sempre più importanti gli argomenti che trattiamo penso che siano importanti per tutto il settore la presenza di persone istituzionali ci fanno capire che comunque sia siamo rispettati oggi conosciuti e sicuramente l'attività che sta facendo Confida Michele e tutte le persone che lavorano nella nostra associazione sia estremamente positiva perché senza di loro questi diciamo questi obiettivi non potremmo raggiungerli e quindi io vi chiedo un grande applauso per tutta la struttura di Confida per quello che ha fatto per questo appuntamento vi ringrazio tutti per essere venuti e vi chiedo di già prenotarvi il prossimo Stato Generale l'anno prossimo perché vorremmo darvi o speriamo di darvi delle notizie positive di quello che riusciremo a fare per il nostro settore nel prossimo futuro grazie